Inaugurato il nuovo ponte che collega Peghera Adolda in Valtaleggio, il taglio del nastro, è venuto alla presenza del Presidente della provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi, dell'Assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Claudia Terzi, dell'Assessore al turismo Lara Magoni, del deputato Daniele Belotti e del consigliere regionale Alex Galizzi. Il ponte è stato edificato sul torrente Corna Grande dalla ditta Bettineschi e a due campate e del lungo 56 metri. Finalmente siamo riusciti ad aprire questo ponte che si aspettava dal 2013, è stata un'operazione molto difficile per tutta una serie di ragioni e anche per le difficoltà economiche che ha vissuto la provincia in questi ultimi anni. Grazie ad un contributo importante della provincia, 400 mila euro e altrettanto importante di regione, 1 milione e 400 mila euro oggi, consigliamo ad una valle un ponte nuovo che vuol dire un collegamento utile sia per le attività che sono insediate in questa valle, sia per i cittadini che per i turisti. Le vicende del viadotto di Peghera, frazione con meno di 200 abitanti appartenente al comune di Taleggio, circa 600 abitanti, cominciarono nel 2013 a causa di una frana che lasciò emergere l'inadeguatezza della vecchia strada. Per risolvere temporaneamente il problema venne allestito un ponte Bailey, che non poteva essere percorso da carichi eccessivamente pesanti e obbligava la viabilità tra Peghera e Olda a senso unico alternato. Il 30 novembre 2020 finalmente furono avviati i lavori per la nuova opera. Era un'opera necessaria, era un'opera che il territorio chiedeva e chiedeva con grande forza. Ci siamo sforzati e questo è il risultato di una grande sinergia tra regione Lombardia e provincia di Bergamo. E sono convinto che quando si lavora insieme, si lavora tutti convinti attorno ad un obiettivo, l'obiettivo si può raggiungere e questo ne è ovviamente il risultato. Grazie a tutti.